ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video adesso parliamo di quello che è stato l'argomento della gara della moto gp in portogallo addirittura direi che la vittoria di martino è passata in secondo piano perché in primo piano assoluto c'è stato ovviamente l'incidente tra i due grandi campioni del mondo ovvero pecco bagnaia e mark marquez io quell'incidente l'ho visto l'ho visto varie volte ho visto anche i replay e sono d'accordo con la decisione che è stata fatta ovvero niente nessuna penalità né a uno né all'altro analizzando bene la situazione posso dire che è stato chiaramente un incidente di gara perché marquez ha tentato il sorpasso in una curva in discesa dall'altro aperta parentesi quella è una curva difficilissima perché è una curva che si affronta in discesa e con un angolo di incrocio davvero piccolo quindi è anche per questo che c'è stato un incidente perché è una curva che tende ad andare verso l'esterno e quindi fare un incrocio davvero difficile ed è quello che è successo marquez è arrivato lungo bagnaia ha provato a fare l'incrocio solo che la moto tendeva ad andare verso l'esterno marquez di per contro manovra è andato verso l'interno e il contatto purtroppo è stato inevitabile tra l'altro non ricordo se nella sprint o nella gara vera e propria c'era già stato un contatto tra marquez e bagnaia quindi non dico che fosse nell'aria questo contatto però diciamo che era quasi inevitabile la cosa che un po mi dà fastidio è che nonostante sia stato archiviato come un incidente di gara ci sono tante tante persone che pretendevano uno o pretendevano l'altro ci sono anche pezzi grossi come orga martin come scusate come orga lorenzo come alesce spargarò la maggior parte degli spagnoli che andavano tutti a fianco a marquez e lo capisco perché ovviamente la nazionalità soprattutto per un pubblico caldo come lo spagnolo è ovviamente normale però queste voci mi danno veramente fastidio non tanto perché io sono tifoso di bagnaia ma perché c'è si vedeva bene che era un incidente di gara uno che ha provato l'incrocio ma è finito largo a causa della formazione della curva e l'altro che giustamente si riporta verso l'interno per chiudere il suo passo quindi un incidente di gara classico quindi perché alimentare le polemiche dicendo a bagnaia doveva essere penalizzato bagnaia non vale niente in confronto a marquez cioè veramente è un po' come il caso della formula 1 di cui ho parlato nel mio video precedente cioè perché alimentare voci inutili soltanto perché vuoi farti notare niente i piloti l'hanno risolta così io penso anche che si siano parlati perché è un contatto del genere bisogna trovarla una soluzione che poi i due piloti alimentino le voci ok ci può stare però adesso che dall'esterno magari si è conclusa con una stretta di mano ma dall'esterno si continua ad alimentare questa polemica allora è veramente assurdo anzi io non vedo l'ora di vedere la di arrivare alla prossima gara aggiungo anche quella della formula intanto scusate ma sta passando un'ambulanza ecco andata via cioè quindi ripeto io non vedo l'ora di vedere le prossime gare moto gp ma anche formula 1 per i motivi che ho detto prima che ho detto nel mio video su science e leclerc perché per avere delle risposte perché io penso che io non ricordo dopo un weekend di formula 1 e moto gp che ci siano così tante polemiche dopo un weekend polemiche alimentate non solo dai social ma anche da gente di alto rango quindi io spero veramente che la prossima gara che purtroppo sarà ancora in non dico in contemporanea ma lo stesso giorno la formula 1 e moto gp io mi auguro di vedere delle risposte da entrambi ovvero sia da bagnaia che da marquez in modo che una volta per tutte questo contatto venga venga in qualche modo diciamo archiviato dall'altro ci sono ulteriori voci alimentate da chiunque sul fatto che ci siano le vecchie rugini del fatto che bagnaia sia un allievo di valentino rossi e che quindi l'abbia fatto apposta per farla pagare a marquez cioè io a queste voci neanche ci do retta perché veramente sono al limite dell'assurdo quindi ripeto per me è un incidente di gara su questo non ci sono dubbi decisione giusta quella direzione gara poi c'è ancora chi dice se l'avesse fatto marquez avrebbe preso il long lap penalty per il weekend successivo no ragazzi in quello no perché se marquez fosse stato l'opposto avrebbe messo il contatto vi assicuro che il mio giudizio sarebbe stato identico a quello che ho appena dato perché io lo ammetto marquez l'ho odiato tra virgolette l'ho odiato per tanti anni però si va avanti con rispetto e con onore io ho sempre rispettato tutti i grandi campioni anche quelli che detestavo di più però si va avanti anzi io marquez non dico che adesso lo sostengo però c'è comunque rispetto cioè se lui vince non mi dà fastidio anzi quindi io mi auguro che la prossima gara possa smorzare definitivamente queste voci perché insomma ragazzi cioè stiamo parlando di moto gp cioè la massima categoria delle moto che già io la ritengo molto divertente perché spesso si vedono delle gare bellissime piena di sorpassi e di duelli vero che l'ultima gara non è stata così ne ho parlato nel post non è che mi sia piaciuta tantissimo porti ma o però dobbiamo continuare a fare il tifo per la competizione e spero che sia sarà proprio la competizione a smorzare tutte queste voci e tutte queste polemiche che sono state alimentate da questo contatto tra bagnaia e marquez quindi aspettiamo ora di vedere le prossime gare con ansia e speriamo veramente di poter assistere di nuovo ad un bello spettacolo io vi ringrazio per il mio seguito in questo video e ci vediamo alla prossima ciao a presto